Un anno di reclusione, risarcimento da liquidare in sede civile, pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 2.500 euro e questa è la pena inflitta alla giudice monocratico del Tribunale di Sulmona Francesca Pinacchio a una 51enne residente a Raiano, FC, per gli atti persecutori nei confronti di una compaesana. I fatti risalgono a Biegno 2017-2018 quando l'imputata, probabilmente mossa da un interesse per la conoscente, aveva posto in essere una serie di condotte persecutorie predominanti con continui pedinamenti nei luoghi frequentati dalla persona offesa. Dal centro estetico al centro commerciale fino alla rotatoria dell'ingresso del paese, ma c'è di più. La donna avrebbe raggiunto e perseguitato la sua conoscente anche in una gara podistica, avrebbe molestato le sue amiche chiedendo informazioni sul conto della persona offesa, atti persecutori abituali che hanno ingenerato nella vittima e nel marito un perdurante stato d'ansia, tanto da costringerli a modificare lo stile di vita. Da qui la condanna a un anno di reclusione, la procura aveva chiesto un anno e otto mesi.